buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 29 maggio 2023 e cominciamo subito la lettura dei giornali come sempre però a partire dall'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è una giornata particolare non abbiamo un santo ma abbiamo qualcosa di più ovvero oggi si festeggia Maria madre della chiesa dopo Maria ausiliatrice che abbiamo così festeggiato nei giorni scorsi si festeggia oggi Maria madre della chiesa una festa che è stata introdotta da papa francesco non molto tempo fa nel 2018 da celebrarsi dopo la pentecoste lunedì dopo la pentecoste ieri infatti era il giorno della discesa dello spirito santo sugli apostoli Maria madre della chiesa fu così dichiarata da paolo sesto durante il concilio vaticano secondo madre degli apostoli madre dei primi cristiani madre appunto di tutta la chiesa le previsioni del tempo continua ancora il tepore dell'estate di primi accenni dell'estate vediamo che nelle marche ci sarà sole prevalente o al più nuvolosità irregolare sulle zone interne ci saranno anche è possibile che ci siano diciamo meglio brevi temporali sui monti sibillini il clima è gradevole la temperatura si aggira tra i 15 gradi che è la minima ai 25 gradi che è la massima sulle coste il vento spira da ovest nord ovest mentre nell'interno da nord est e il mare è calmo questa la situazione del tempo se avete ancora un po di tempo potete crogiolarvi un pochino al sole come molti di noi hanno fatto nella giornata di ieri e allora diamo subito un'occhiata a quello che dicono i giornali oggi a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano ecco l'apertura dedicata tutta alla città da giocare ieri una bella grande manifestazione che si è svolta nella città della fortuna la statale è diventata un parco giochi escluso il traffico motorizzato ebbene è stata data ai bambini da lione sono venuti addirittura per imparare nella città di fano per imparare come la città può essere a misura di bambino il sindaco ha accolto la delegazione francese lione è una grande città della francia conta più di mezzo milione di abitanti e così è esplosa la gioia dei bambini come a carnevale a carnevale si fa la stessa cosa viale gramsci viene chiuso al traffico viale gramsci è una a un tratto urbano della statale 16 quindi pensate come è trafficata negli altri giorni lo dico per chi non è di fano perché poi i fanesi la conoscono benissimo e quindi ieri è stata come una volta infatti dice il corriere adriatico una volta era sempre così le strade poco trafficate erano il regno dei bambini gareggiavano con i tappi delle bottiglie sui cordoli saltellavano su caselle disegnate con il gesso giocavano a palla si rincorrevano vi impostavano le loro avventure poi la presenza delle auto è aumentata fino a respingerli in qualche parco dove però la recensione limita la loro fantasia e le strade sono diventate impraticabili al gioco ieri invece centinaia forse migliaia di bambini hanno occupato viale gramsci e hanno partecipato alle molte animazioni che le associazioni ludiche le associazioni di carattere sociale le associazioni sportive hanno offerto loro e ci sono stati veramente tanti giochi tanta fantasia tanto colore e nel viale gramsci dove hanno così passeggiato tutte e molte anzi intere famiglie posso dire padre madre e bambini anche i genitori si sono poi cimentati nei giochi offerti appunto dall'associazione tra le attrazioni anche l'intrattenimento di vitruvio con il teatro romano pensato al pincio quindi anche il museo civico ha partecipato a questa iniziativa ed ora diamo anche notizia per quanto è avvenuto un incidente un incidente che si è verificato nei giorni scorsi purtroppo con una fuga da parte di chi lo ha provocato quindi un comportamento veramente discutibile investita in bici nella rotatoria pirata della strada fugge una donna riporta una frattura e presenta la denuncia per omissione di soccorso è reentrata regolarmente nell'area della rotatoria tra via fanella e via interquartieri e via aldomoro così si chiama in quel tratto l'interquartieri quando è stata urtata da un'auto che non ha osservato il l'obbligo di dare la precedenza la donna è caduta sull'asfalto lì per lì ha tentato di rialzarsi ha ripreso la bicicletta è andata a casa poi si accorta che il piede che aveva così contuso si era gonfiato a dismisura è andata al pronto soccorso e i medici gli hanno riscontrato una frattura al calcagno con osso esposto quindi una prognosi di 30 giorni una prognosi importante che limiterà molto i movimenti della signora purtroppo il pirata della strada così possiamo definirlo non si è fermato a prestarle soccorso cosa invece ha fatto l'automobilista che seguiva questa macchina che si è data alla fuga purtroppo entrambi non sono riusciti a annotare il numero di targa né a capire quale marca di quale marca l'auto fosse per cui questa ha potuto dileguarsi impudentemente ora comunque se qualcuno ha notato qualcosa magari anche un po a distanza può segnalare la cosa al comando della polizia locale dove è stata presentata una denuncia vediamo ancora le altre notizie passiamo a fossombrone a fossombrone si è svolto il paglio del car il trionfo del carnevale borgo sant'antonio vince la corsa il paglio se lo aggiudica san rocco il quartiere di san rocco le mosse ha vinto il suo primo paglio del cardinale conquistando un posto d'onore per la prima volta nella rievocazione il trionfo del carnevale giunto alla ventunesima edizione ebbene è stato uno spettacolo veramente avvincente anche questo grande festa e tripudio generale accompagnato dal classico colpo della bombarda che ha decretato la fine di tutte le competizioni peccato perché questo tuffo nel medioevo aveva creato tanta suggestione e forse il brusco ritorno alla realtà di oggi è stato un po troppo brusco così possiamo definirlo ebbene come vuole la tradizione grande attesa c'era per la rara et bella corsa dell'anello come raccontano appunto gli anali del 1559 che è stata vinta da borgo sant'antonio il ponte dopo lo spareggio con il castello di isola di fano san rocco ha primeggiato per il paglio grazie ai risultati di altri giochi e poi tutta la kermesse è stata animata da oltre mille figuranti in costumi medievali si sono rivissuti fastosi momenti di quando il cardinale di urbino giulio della rovere fratello del duca guido baldo decise di organizzare un torneo cavalleresco per onorare la città di fossombrone quindi una bella iniziativa e ora c'è una certa attesa una certa frenesia per quanto riguarda l'attesa del consiglio comunale di fano che si svolgerà domani perché ci sono importanti punti all'ordine del giorno tra questi c'è anche la variante di centinarola ed ora vediamo in questo articolo una dichiarazione di renato claudio minardi dirigente del partito democratico in merito a quanto sostenuto da jacone che l'imprenditore che si appresta che vorrebbe realizzare questo supermercato nei pressi di centinarola realizzando in cambio l'ampliamento della scuola elementare ebbene renato claudio minardi fornisce la sua versione sull'incontro avvenuto con l'imprenditore nel luglio del 2018 quando quest'ultimo gli espresse l'intenzione di realizzare di richiedere anzi una variante per realizzare questo supermercato in cambio della scuola minardi cosa ha fatto minardi ha ovviamente minardi in quel momento riceveva il pubblico ogni venerdì nella sede del partito democratico ha parlato anche con questo imprenditore e a proposito della variante ha detto gli dissi di relazionarsi con l'amministrazione comunale che aveva titolo alla prosecuzione dell'iter amministrazione che in quel periodo stava lavorando alla variante generale del partito del piano regolatore generale che poi non approdò però in consiglio comunale eravamo nel 2018 dissi inoltre che a 300 metri di distanza in via forcolo era già previsto nel prg vigente un grande comparto nel quale si possono già oggi realizzare 5.781 metri quadrati di commerciale direzionale una previsione che ancora non ha avuto la sua realizzazione quindi minardi nega di aver così promesso qualsiasi concessione dice vabbè tu ne parli con me ma è competente e il consiglio è l'amministrazione comunale che sta varando il piano regolatore e quindi la cosa dovrebbe essere finita lì ma comunque oggi c'è una riunione di maggioranza e vedremo che cosa la coalizione amministrativa riuscirà a così che cosa deciderà in merito al voto di domani quando giungerà appunto in discussione la variante di centinaroli passiamo a san costanzo e vediamo che si è verificato un incidente un violento schianto frontale tre feriti muore un cane due auto si scontrano in strada torrette un'altra tampona conducenti con lesioni lievi spettacolare dunque incidente ieri mattina sulla provinciale di Santa Croce tre persone ferite mentre un cane che si trovava a bordo di uno dei veicoli ha perso la vita a causa dei traumi riportati è successo poco prima delle nove lungo la strada torrette che collega la frazione di Santa Croce in direzione della statale adriatica all'altezza di torrette di Fano e quindi feriti per fortuna non esiti molto molto più gravi poteva accadere anche questo giriamo ancora la pagina siamo a Senigallia a Senigallia il weekend è sempre una giornata molto impegnativa per le forze dell'ordine le quali sono nel territorio per evitare che si verifichino incidenti che purtroppo accadono e soprattutto per controllare certi traffici illeciti che durante il fine settimana si movimentano sempre di più prove generali di movida sicura stangate sugli ubriati alla guida bar in spiaggia aperti fino alle tre nei guai due giovani brilli un terzo getta la droga davanti ai carabinieri i carabinieri hanno incrementato i servizi di prevenzione sulla circolazione stradale nell'ultimo weekend in modo particolare a Senigallia e due automobilisti sono stati sorpresi a guidare in stato di ebrezza uno aveva 32 anni e era di Iesi è stato controllato a bordo della propria auto in quanto evidenziava sintomi di abuso etilico ebbene il test ha rivelato un tasso di 0,85 superiore quindi al limite consentito e per lui è scattata la denuncia con ritiro della patente. Il secondo fermato è un 22enne di potenza picena che aveva un tasso alcolico di 0,30 il limite è 0,50 ma essendo lui un neopatentato doveva essere dove avere un limite pari a 0 in questo caso è stato è stato sanzionato e poi durante il controllo un terzo passeggero un passeggero appunto che era con lui sulla macchina ha gettato a terra un involucro contenente lo stupefacente ma la mossa non è sfuggita alle forze dell'ordine i quali hanno appurato che si trattava di un involucro contenente 2,7 grammi di ascis la droga è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla prefettura di Macerata vediamo anche qualche notizia di Pesaro dove l'apertura è dedicata a Baia Flaminia ora due steppe per la Baia, due gradini, due fasi, arredi bianchi e beige e regole per il porticato la notizia è riportata con grande evidenza anche nell'apertura della prima pagina del Corriere Adriatico Baia Flaminia si cambia, varato il nuovo regolamento arredi bianchi e beige, spazi contingentati sotto il porticato e poi inviare Trieste d'obbligo il Total White, il tutto bianco piazzale del Cascone, corsa per recuperare i ritardi ci sono condensate diverse notizie in questo titolo di apertura della pagina del Corriere Adriatico ma torniamo a Baia Flaminia ebbene a Baia Flaminia è pronto il nuovo regolamento comunale che disciplina gli obblighi e le buone prassi per tutte le attività che si affacciano su questa zona molto interessante dal punto di vista turistico di Pesaro ebbene qui ci sarà un anno di tempo per completare l'adeguamento dei dehors e allestimenti esterni sono stati confermati gli spazi di suolo in più per i locali e ristoranti della zona lungo l'isola pedonale di Viale Trieste a tutti gli esercenti del Viale il Comune chiederà un allestimento white quindi un allestimento uniforme che possa dare anche l'immagine di una Pesaro pulita di una Pesaro chiara, solare insomma il bianco che contrasta con i cieli azzurri insomma dà una bella immagine dal punto di vista estetico e poi nel piazzale delle Cascone il Cascone è quello di Valentino Rossi i lavori mettono il turbo la missione è recuperare i giorni perduti a causa del maltempo ebbene procedano i lavori in piazzale d'annunzio e con il progressivo smantellarsi del cantiere si riducono i disagi per gli hotel del lungomare ebbene a questo punto senza contare le difficoltà prodotte sul cantiere dall'enorme quantità di pioggia che è caduta nei giorni scorsi ebbene i lavoratori, gli operai stanno accelerando il passo e ci sono dei tempi che vengono scanditi con un cronoprogramma più celere dicevo dall'architetto che si chiama Ferdinando Leoni entro la fine settimana detto quest'ultimo saranno completati muri e cordoli perimetrali tra lo spazio circolare e la ciclabile e la nuova piazza prenderà così forma e corpo insomma questa bella piazza con il cascone anche il cascone è stato spostato per consentire i lavori e per dare una nuova immagine a questa bella area della zona verso il mare di Pesaro accelerata sulla cassa d'espansione ora si procede con la bonifica bella un articolo che riguarda la prevenzione contro nuovi temporali, contro nuove ondate contro piovaschi improvvisi che procurano tanti tanti danni ebbene si realizza una cassa di espansione a chiusa di Ginestreto si parte dalla bonifica bellica e dalla ispezione archeologica mai come in questo periodo dopo il nubifraggio dello scorso 16 maggio è tornata ad attualità il tema delle misure per contenere il rischio idrogeologico e quindi qualcosa veramente si sta facendo in questo settore e poi parliamo della visita che la segretaria nazionale del PD e l'ischline ha compiuto ieri a Pesaro andava in Ancona per la fine della campagna elettorale e con il sindaco Ricci ha fatto un'ispezione e un controllo sul colle di San Bartalo la segretaria nazionale accolta dal sindaco che chiede all'opposizione di sollecitare il governo per quanto riguarda gli aiuti che sono stati promessi tiriamo ancora la pagina andiamo ad Urbino dove è il pro sindaco Vittorio Sgarbi a chiedere il vincolo della soprintendenza per impedire la discarica a Riceci tra Pesaro, capitale della cultura e Urbino, città Unesco due momenti importanti per la valorizzazione del territorio che non possono essere offuscati con una previsione di una discarica in uno dei punti più belli del paesaggio marchigiano Vittorio Sgarbi prosindaco di Urbino sottosegretario al Ministero della Cultura entra a piedi uniti sul progetto della mega discarica di rifiuti speciali pericolosi di riceci di Petriano questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino vediamo la prima pagina dove vengono riassunte un po' le notizie di tutte le province marchigiane partendo da quella di Pesaro la spiaggia si rianima maltempo alle spalle verso il pienone rinasce anche l'attività balneare dopo le piogge dei giorni scorsi ebbene ieri si sono fatte le prove generali per i bagnini e i bagnanti dopo l'alluvione ma i rincari di lettini e ombrelloni si fanno sentire e poi si parla ancora della vendita dell'hotel The Ben Fabri annuncia sono il nuovo proprietario e spuntano altre antenne ebbene le antenne per la telefonia mobile sono un po' come uno spettro pauroso per molti molti cittadini e nonostante le proteste queste sorgono un po' come i funghi e quindi ancora nuove manifestazioni contro vediamo anche le altre province in Ancona l'affluenza al seggio 39,35% non è alta oggi ancora si vota per il ballottaggio lieve flessione rispetto a due settimane fa quando era il 42,19% tanti anziani ai seggi si vota anche oggi dalle 7 alle ore 15 e poi per quanto riguarda invece la cronaca vediamo la movida violenta scoppia una rissa in piazza del Papa ubriaco scatenato giovane ferito a bottigliate e poi a Valmusone atti sessuali sui figli minorenni una madre nei guai purtroppo una madre che non fa il suo dovere Ascoli Piceno si spegne a cent'anni l'ex sindaco Malahigia rilanciò il paese a San Benedetto sono state rimosse 16 auto per fare spazio alla corsa sul lungomare mentre in montagna un escursionista colto da malore sull'Ambro tre sono stati recuperati sono stati recuperati perché si erano persi in questo groviglio di ambiente a Porto San Giorgio si finge bancario e si fa accreditare mille euro e poi un'operazione dei carabinieri vediamo anche Macerata si parla di trasporti APM utile di un milione ma pesa il caro energia le spese sono raddoppiate a Monte San Giusto una palazzina va a fuoco cinque le persone restano senza casa mentre sul lungomare c'è uno schianto nella notte un'auto si ribalta ferita una coppia vediamo la pagina di Pesaro eccola qua se parliamo di antenne ne abbiamo annunciato l'articolo giungla di antenne sotto Monte fa il bis negli ultimi dieci giorni un altro impianto direttamente sulla Renile intanto a Muraglia i residenti raccolgono le firme e scrivono al comune Muraglia Assoria da tutte le parti insomma queste antenne stanno sorgendo veramente in numero considerevole vediamo qui la foto delle nuove antenne che sorgono tra la ferrovia e la spiaggia le antenne nei pressi di bagni Coccoloco sotto quella di via Beccaria a Muraglia la vediamo qui in questa foto più piccola spunta dunque un'altra antenna accanto alla ferrovia poco prima di Fosso Seiore ebbene anche qui ci sono tante tante proteste e intanto si fanno le prove generali per la prossima estate non è lontana il 21 giugno non è così lontano dopo la falsa partenza a causa del maltempo un posto al sole ieri per tutti sarà un 2 giugno al top all'indomani dell'alluvione le spiagge tornano a riempirsi di bagnanti e devo dire che i concessionari di spiaggia hanno fatto veramente uno sforzo considerevole per approntare tutto nel migliore dei modi in vista della effettiva apertura della stagione balneare anche se questa burocraticamente poteva già anticiparsi nei giorni scorsi questo però praticamente non è stato possibile a causa di un maggio è stato veramente difficile dal punto di vista meteorologico ieri invece era veramente una bella giornata e così si spera che siano anche le prossime hotel de ben fabbri rompe gli indugi sono io il nuovo proprietario ha dichiarato questa struttura rappresenta un pezzo di storia della città manterremo la destinazione alberghiera questo albergo con le sfingi che guarda il lungomare e poi vediamo un articolo di cronaca paura la gara di bici cade dalla mountain bike arriva l'eliambulanza due incidenti ieri alla pietralata MTB race tra Fermignano e Acqualagna un partecipante si è lussato una spalla cadendo un altro è finito in un punto scosceso e poi abbiamo annunciato per quanto riguarda Macerata per i trasporti APM utile di oltre un milione conto salatissimo per l'energia macerata raddoppiate le spese per il carburante dei bus e per quanto riguarda Ancona invece voglio segnalarvi purtroppo questo articolo che fa veramente pensare atti sessuali sui figli minori in casa tracce diritti voodoo Valmusone indagata una madre di 30 anni per violenza e maltrattamenti e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto